amici dell'arte tv un saluto da lorenz e benvenuti a questa nuova esilarante puntata qui con me sono con l'artista gabriele aldobertozzi il quale lascio la parola per farmi spiegare il movimento artistico del quale fa parte e maggiori informazioni a lei la parola allora movimento artistico è l'inismo l'inismo viene dall'acronimo ini che è internazionale novatrice infinitesimale l'inismo è stato fondato a parigi al café de flore il 3 gennaio 1980 poi è stato divulgato in europa in america l'america usa e america del sud argentina e brasile è un movimento d'avanguardia quindi è costituito da manifesti riunioni periodiche e qui sono rappresentati qui ho la fiera per nizio di forlì benissimo ringrazio 16 artisti direi che sono i più rappresentativi del movimento